come andato l'esame ho preso 28 io lo so che non dovrei più mentire a mia mamma però non ce la faccio no non così devi fare petali più larghi dobbiamo fare il piano di lavoro per la settimana o il cane da solo a casa non è possibile sempre con questo cane quando l'ho visto la prima volta mi hai preso un colpo a me piace un sacco travestirmi sai luca comics è un retuno di matti mamma mi dici che succede tu stai con uno che si attraversa da cane e mi chiedi che succede ma te che cazzo ne sai di chi è lui senza un perché tu sei perfetta sentirsi niente niente ciao 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 Grazie a tutti.